Orsa investita uccisa sulla strada stale 17 nella tarda serata della vigilia di Natale nei pressi dello svincolo per il cimitero di Castel di Sangro, fuori dall'area contigua del parco. Un automobilista ha investito un'orsa che aveva a seguito un cucciolo. L'impatto è stato fatale per l'orsa che è morta quasi sul colpo. Il direttore del parco, a corso sul posto all'ertaro dalla centrale dei carabinieri, ha trovato una pattuglia della polizia stradale. Costarata la morte, ha organizzato il recupero dell'orsa chiamando il veterinario del parco e i guardi a parco. La preoccupazione, oltre ovviamente al recupero dell'animale, era ed è quella del cucciolo. Per questo per tutta la notte il biologo del parco della Maiella e i quattro guardi a parco hanno perlustrato la zona per tenere lontano il cucciolo che ha continuato a cercare la mamma. D'intesa con la polizia stradale starà posizionata la macchina dei guardi a parco con lampeggianti a bordo strada per avvisare gli automobilisti del possibile pericolo derivante dall'attraversamento del cucciolo. In quel tratto, anche se c'è il limite di velocità, le macchine sfrecciano veloci. Chiediamo a tutti di fare attenzione in questi giorni di festa, di intenso traffico, perché per qualche giorno il cucciolo continuerà a cercare, raccomandano dall'ente. Il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il parco nazionale della Maiella, la riserva dei genzane, carabinieri forestali, opereranno con proprio personale con dei turni notturni e diurni per tutelare l'incolumità del cucciolo e delle persone. L'orsa intanto è stata sottoposta a necroscopia.